Con questo qua di Odolo? Sì, oggi siamo qua a Odolo, è andata abbastanza bene, nonostante non sono proprio in formissima, ho chiuso il secondo posto assoluto dietro a Simone Arici. Percorso bello, molto infangato, però divertente, molto dura, gara molto dura, il caldo ci ha voluto bene, il tempo ci ha voluto bene, diciamo, e niente, lascio la parola a Diego che anche lui è partecipato alla gara. Percorso molto bello, molto impegnativo e siamo qua, è andata bene.